Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 settembre verranno eseguiti alcuni lavori di messa in sicurezza dell'ingresso autostradale Boccetta di Messina, per ripristinare le barriere laterali, divelte lo scorso 17 giugno. Nelle prime ore della mattinata di quel giorno l'autista di un mezzo pesante, mentre percorreva la rampa in salita, perse autonomamente il controllo, sfondando prima le recinzioni della carreggiata e finendo poi nel cortile sottostante del liceo scientifico Archimede. Per consentire il posizionamento di 25 barriere stradali in New Jersey in cemento armato, la pista di entrata rimarrà dunque interdetta al traffico per 5 ore, tra le ore 23 e le 4. Lo svincolo in uscita rimarrà invece regolarmente aperto.